Ciao a tutti ragazzi sono LorexMeka e benvenuti in questo nuovissimo video su StumbleGuys Oggi farò il provino a un altro mio amico, Emix Ciao E' un po' timido perciò non parlerà moltissimo Ok Iniziamo la partita Sì, Emix per passare il provino devi vincere due corone di fila, io in semifinale mi eliminerò e ti guarderò, capito? Eh ma allora che ci sono i posti Allora ti do due tentativi Va bene Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina delle notifiche per un altro video su StumbleGuys Questo è lo speciale 90 iscritti Ah Emi comunque questa è la partita di riscaldamento per provino Se vinci questa, io sto, vado piano apposta e faccio anche il nabbo apposta Se vinci questa partita puoi entrare direttamente nel team Capito? Perciò io mi eliminerò e ti guarderò, già dalla partita di riscaldamento Mi sa che forse, forse ho già perso Stai tranquillo, tanto il riscaldamento non è importante vincere questo Però se lo vinci, sei direttamente nel team, capito? Ah, ciao Ci qualifichiamo, stai tranquillo Sì Ma non mi ha fatto salire Ti aspetto, dove che sei? Eccati vai Ci qualificati entrambi Ok, il secondo round sta per cominciare Tile fall, benissimo Per me ci sta, perché non è tanto riflesso Ma veramente dai fall non è che è difficile Solo che devi, cioè, l'importante Se aspetti che gli altri vanno avanti e che ti facciano la strada Magari se hai anche il pugno e l'abbraccio È un vantaggio Ok, qualificato Ho perso Non fa niente, non fa niente, Emix Aspettami in questa finale Vabbè Poi iniziamo il provino Credevo che ne fossero sette a qualificare Space racing finale E' la terza volta di fila Comunque, poco fa, se non l'avete visto E' uscita l'1v1v1 contro Christiax e Giallox Non ve la perdete, mi raccomando Non vi dico chi ha vinto, ragazzi Bene, torniamo a noi Io intanto che perdo Credo Ma non spero Però credo Ti è piaciuto il trick, Emix? Ah, è molto bello Dai, se quel tizio sbaglia Ho vinto io Dai, io vado a sinistra No, è a sinistra Ah, scusa No, sì Sì Che culo Grande Bene Sei pronto ad aprire il provino? A fare il provino? Sì Ok, ragazzi Siamo pronti per il provino di Emix Ti senti pronto? Per il provino? Sì Ok Siamo pronti per cominciare Se fallisci questo tentativo ne hai un altro Perché quella di prima era il riscaldamento Va bene Devi vincere due partite Ma in finale o in semifinale? No, devi vincere la finale No, devi vincere la finale Devi vincere la corona Tra l'altro per due volte A me non esce mai IcyH8 IcyH8 non ti esce mai A me mi esce abbastanza Ho comunque fatto il trick No, non me l'ho fatto fare però sono andato di qui No, comunque non me l'ho fatto fare il trick Con la dell'alzata Non me l'ho fatto fare Dai, ho dato il pugno a un tizio e me ne vado avanti Primo qualificato Ehmix dove che sei? Ti sei qualificato? Non ancora Ti qualifico? Però volevo fare quel trick No, purtroppo non mi qualifico No, aspetta ci sono alcuni che stanno facendo i fighi Qualificato? Sì Ho anche capito più Ok, allora possiamo passare al secondo Ok, ti ho visto Vediamo il secondo round Che sarà Ehmix dove sei che sbagliare? Ma come posso fare il mega fatto due volte? Sì Qua Laser Tracer Attenzione Io qua mi dovrei eliminare Però se riesco a sopravvivere Io farò qualche salto Giocherò piano Cercherò Di andare piano Ho già trovato questa skin Della smauda Ok, bene, mi sono ucciso Vabbè ovviamente tutte le persone vogliono fare i tottici Che vogliono uccidere le persone per vincere Benissimo, benissimo, benissimo Ehmix Ce la stai per fare Perché io vedo che sei Sono già defunti E se gli altri due muoiono Ce la fai Ok, stavi per cadere Dentro la morte dell'Ase Ok, ok Va Buono, buono Grande Benissimo Sei pronta alla finale? Sì Forse la finale è blockdash Non ne sono sicuro Ma forse lo è Forse è blockdash Perché se è blockdash è la mia partita preferita Overhander Vabbè, quello ho fatto 3 secondi in più del record mondial Ehm, allora ce la puoi fare Nooo, certo Per il tuo inizio Dai, ce la puoi fare Tanto ti do un altro tentativo Dopo lo crei tu il gruppo Se sali qua sopra ce la puoi fare Dai, ce la puoi fare Ehmix Vai, sei secondo, la puoi superare Ehmix Nooo Nooo Non ho vinto Non ti arrendere Non ti arrendere Non ti arrendere Se ca fai... No Va bene Non fa niente Non fa niente Ti do un'altra chance Ok ragazzi, questo è l'ultimo tentativo per Ehmix Se non riesce a qualificarsi Temo che lui non entrerà nel team Mentre se vince una corona A quel punto sbloccherà un'altra partita Che se vincerà anche quella Potrà entrare nel mio team Ehm Ai sei Se mi guardi faccio il mega salto Ehm Mi vuoi guardare? No, me l'aveva fatta La cosa Vai, io sto proseguendo Bravo Ehmix Ti vedo più carico di prima Perché sai che è l'ultimo tentativo Quindi adesso mi impinggo al massimo Vai Ooooo Bravissimo Perfetto Ok Ci siamo qualificati Adesso Io non mi qualificherò In questa semifinale Di nuovo Mi dicevo a stupire Di nuovo la F3 C'è è uguale alla partita di prima Se ci pensi Allora in finale vorrei tipo block dash Ok Mi sono eliminato Si Potrebbe uscire in finale la Block dash Ragazzi Perché ci sono il botto Vai Ehmix Sei pronto? Si Si Questa Questa Qualcuna E' tutta tua Vabbè Tanto la metà del lavoro Vai l'ultimo che... Sicuro non sei tu quello che muore Dai Si Sei in finale Se esce over e under E' la stessa copia Della partita di prima E' la stessa copia Della partita di prima Copiata Identica e precisa Non ci sanno differenze Oh lei troppo La mappa che amo di più Pure la mia No ma io Io so che lo vingo Dai eh Se vinci Però Pensa Che Se vinci questa partita Ne avrai accesso a un'altra Cioè la finalissima partita Dove si disputerà Se tu entrerai nel team O meno Vabbè questa partita Sembra tua Però Lasciate tanti like per Ehmix Che se la porta a casa Benissimo Ok Allora adesso L'ultima possibilità Si si Vai Ehmix Start Però tu In finale In finale no Ti qualifichi vero? No non mi qualifico in finale Io Perchè ti devo guardare In finale Devo vedere tutto quello che riesci a fare Per questa Ultima E decisiva Partita Per Ehmix Entrerà nel team MK Scopriamolo Off camera Io e Cristian Abbiamo fatto già un altro paio di provini Quindi C'è uno che mi sto scarazzando No Questo sarà l'unico round dove mi potrò qualificare Perciò Io ti faccio andare avanti Così ti guardo da dietro Anche al primo round Va bene Va bene Va bene Non fai il trick Però non è importante Questo mi è piaciuto Me ne vado di là Ok Trick fallito ma non fa niente perchè tanto ora ci riesco Ecco 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 Nooo E' scoperto Ma io lo sapevo perchè lo conosco questo trick Cioè Stavo E' sto scherzo Tra l'altro ho fatto Asarax E poi me l'hanno anche fatto in finale E poi me l'hanno anche fatto in finale Pensate un po' stavo qui E poi ho fatto il trick e sono venuto da dietro perciò ti ho scoperto Ok Semifinale Il round dove mi eliminerò Chissà se per la terza volta di fila Laser Tracer Stavolta cambia Cioè perchè se è per la terza volta di fila E' bug Il gioco è rotto Però Block dash Ci stavo pensando Mi dovrò eliminare? Mi dovrò eliminare dopo qualche block No ma se te la vuoi giocare Te la puoi giocare però In finale Ah no perchè No perchè io ti devo guardare Vabbè mi butto giù dopo un po' di tempo oppure mi vado Vado sul laser Ok mi sono buttato giù apposta Ora ti posso aspettare Dov'è che sei? Non ti ritrovo Ok Emix Qua dovrebbero morire tutti Sì Sono morti tutti Quindi ho vinto io la partita In teoria hai già vinto Ahahah Hai vinto No siete rimasti in due Cosa? Nooo Vabbè sappiamo già il vincitore Laser Tracer In due Laser Tracer in due Dai Questa è la partita eh Emix Qua è proprio una finale accesissima Ma mo' si fa eliminare sto qua C'è non ho capito Leanne fa Ma io credevo che restasse Cioè che era morto Ma uno è sopravvissuto evidentemente Ma uno è sopravvissuto evidentemente Ma no scusa perché eravate in 16 in semifinale Sei nel team Sei nel team Emix Si entra nel team Sei contento? Si Quando hai l'opportunità Vatti a cambiare il nome E mettiti MK E scegli come vuoi MK Emix Come vuoi tu Va bene Adesso me lo vado a cambiare Se me lo fa cambiare No perché non hai 100 gem Credo che già l'hai cambiato giusto? No 115 Ah vatti a cambiare subito allora Ma io prima vado a fare un bel giretto Vai Fate un bel giretto Dai è che vi Ti aspettiamo Vogliamo fare una partita insieme a te con un uomo non Lorenzo sono arrivato a 10.000 coppe Ah serio? Si Bravo Emix Comunque sto ancora in video Adesso mettiamo MK Giusto? Si MK Trattino Lorex Emix Nel tuo caso Hai visto come hai fatto prima giusto? Cioè Come ho fatto io Sai come si mette quel trattino? Emix Con la X? Si 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 Ok Ho cambiato il nome Ok facciamo questa partita E' venuto come il mio Solo che tu sei scritto Emix e io Lorex Vai Ti dico il codice Vai 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 Tutto tu Il codice è 7 3 4 5 6 Uuuu Ciao Ma chi è questo? Ok Ma lei non deve Si si Se volevi Emix lo potevi scrivere anche tutto maiuscolo come ho fatto io però non è un problema stupendo di tutto Non mi cambiavo il nome da tipo 3 mesi Si Uuuu Sai Andiamo a fare questa partita Siiii Ma quindi questa è una partita a caso Si una partita a caso Sei nel team Volevo entrare da un sacco Dove è nel team Dove è nel team Pensate che lui un giorno off camera ha già fatto il provino Però non l'ha Non c'è No Stonabbo Nooo Me la paga quel tizio Me la pagherà cara Ma l'ho raggiunto Non mi qualifico il secondo No Non mi qualifico per colpa Di un tizio che mi ha panciato A quella parte degli ostacoli E quindi mi ha buttato nell'ostacolo e ora Ok Si mi qualifico Guarda che c'ho anche io il buon notizio se proprio vuoi vedere hai visto? No No ho aperto No ho vinto Guardami se ho qualificato Ma si arriva proprio all'ultimo posto Mh Perchè stammi di fake Probabilmente mi ha dato un pugno E Non mi piacerebbe un sacco lavare esso tipo Si è curioso perchè so fortissimo io a lavare esso Ma io riesco a fare sempre il trick del vulcano Pur io No io non quello del vulcano Io riesco a... Io faccio normale Vado sul bordo Poi arriva alla parte finale Salto su quel vulcano gigante Poi Anche io Anche io Non è uno di questo sempre Anzi Vodo è stato colpito dal martello di Cannon Climb Quell'inutile Stamini fake No Rossi Cioè no come... No Rossi Pronto Non ti confondere Penso sempre a che maniera qua Vai Vai Sì Mi sono qualificato gol non si è qualificato stanni fake addio nabbo si è qualificato stanni fake 12 ti odio stanni fake 12 come hai usato adesso la finale si schiaccia no non ci posso credere basta che non vince quell'inutile schifo gli stanni fake allora sto sono primo sono primo io posso vincere non sbagliare non mi ha fatto saltare non mi ha perso sto dietro di tutti c'è ero primissimo non mi ha fatto non mi ha premuto mi è mix ma che ha fatto vabbè abbiamo perso non fa niente no direi che il video si può concludere qui bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale come ho già ripetuto prima e se volete il ritorno di emix ovviamente ridico lasciate like e so tre noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao